Ben ritrovati su Auro News Sera, il nostro appuntamento quotidiano con l'attualità. Vediamo insieme i principali titoli della giornata. Macron a Shanghai per firmare accordi commerciali con il presidente cinese Xi Jinping e ribadire gli impegni contro i cambiamenti climatici. Web Summit di Lisbona tra high-tech e start-up si infila la Brexit, il caponegoziatore Barnier e nessuno è riuscito a spiegarmene i vantaggi. La Supercoppa italiana torna in Arabia Saudita, Juve Lazio si giocherà a Riade, questa volta lo stadio sarà aperto alle donne in tutti i settori. Aperto i battenti il China International Import Expo a Shanghai, la fiera dedicata alle importazioni. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato diversi leader mondiali, tra i quali il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio e il presidente francese Emmanuel Macron. La strana alleanza, da un lato la Francia che sogna Parigi senza auto e la senna balneabile, dall'altro la Cina, neofita dell'impegno ambientalista, paese alle prese con oltre un milione di morti all'anno per l'inquinamento dell'aria. Ma questo martedì il presidente cinese Emmanuel Macron e il cinese Xi Jinping si sono stretti la mano e hanno siglato un'intesa per dire, dopo l'uscita dal patto degli Stati Uniti, che l'accordo per il clima di Parigi è irreversibile. Se vogliamo aderire all'accordo di Parigi dobbiamo rafforzare il nostro impegno per ridurre le emissioni il prossimo anno e dobbiamo confermare nuovi obiettivi per il 2030 e il 2050 e la cooperazione tra Cina e l'Unione Europea nel rispetto del patto è decisiva. Il presidente francese è dunque blinda e firmataria e esprime il rammarico per l'uscita degli Stati Uniti. Così hanno fatto altri, come il Cremlino, per cui è molto difficile parlare di un accordo sul clima senza la più grande potenza mondiale, stesso l'atteggiamento di Pechino. La Cina esprime amarezza per il ritiro degli Stati Uniti dagli accordi di Parigi. Noi crediamo che il cambiamento climatico sia una sfida comune per tutta l'umanità. Tutti i membri della comunità internazionale dovrebbero unirsi e cooperare, ognuno facendo il suo meglio secondo le proprie capacità per gestire, uniti, il problema. Ma gli Stati Uniti si ritireranno davvero dall'accordo? La decisione di Trump, infatti, dovrebbe essere effettiva dal 4 novembre 2020, cioè dal giorno successivo alle prossime presidenziali statunitensi. Se Trump non dovesse essere rieletto, ipotesi al momento remota, cosa farà il suo successore? Intanto il segretario di Stato Mike Pompeo ha fatto sapere che gli Stati Uniti continueranno a offrire un modello realistico e pragmatico d'azione per la difesa dell'ambiente e ha rivendicato i risultati nella lotta all'inquinamento degli ultimi anni. Mentre la Francia, la fiera di Shanghai, manovra per bilanciare i rapporti di forza con Pechino, Euronews ha esaminato da vicino il caso Venezia, cioè uno dei grandi oggetti del desiderio da parte dell'economia cinese. Non è un caso che la patria di Marco Polo sia la porta d'accesso non solo delle nuove vie della seta, cioè diversi corridoi terrestri, marittimi, aerei, ma quella dell'Europa. Venezia resta uno dei terminal piambiti di quei 60 milioni di ricchi cinesi che entrano in Europa proprio dalla più bella città lagunare del vecchio continente. I cinesi però non sono solo turisti. Nel triennio 2014-2017 la Cina ha investito 70 miliardi di dollari nelle vie della seta, con 1.400 progetti e la spesa programmate di altri 130 miliardi di dollari all'anno fino al 2022. Le statistiche della Camera di Commercio di Venezia mostrano che fra il 2017 e il 2018 le imprese straniere a Venezia sono cresciute da 5.536 a 7.757, con una progressione delle aziende cinesi del 5,5%. Cala invece la presenza degli imprenditori italiani. Gli imprenditori di ogni livello cinese sono il 17,6% degli imprenditori di tutta la città di Venezia. Secondo Renzo Cavalieri, docente a Cafoscari, Macron potrebbe riuscire a fare i buoni uffici dell'Europa in Cina. Ho l'impressione che in questo momento per Macron l'interesse nazionale coincida almeno in parte con un interesse più ampio europeo. Del resto, le ripeto, in questo momento storico i singoli paesi europei, anche quelli tradizionalmente più grandi, più forti, più internazionalizzati, hanno un problema di dimensioni rispetto ai grandi movimenti che si stanno realizzando, la Cina, l'India, in parte la Russia e gli Stati Uniti. Le grandi potenze sono molto grandi, l'Europa sarebbe perfettamente adeguata, i singoli stati europei, anche quelli più grandi, sono un po' in difficoltà. Occorre veramente che l'Europa adotti una posizione unitaria per non scomparire davanti al mondo bipolare Asia-America. Il Web Summit di Lisbona è un appuntamento imprescindibile per i colossi del digitale. In questa edizione, tra gli oltre mille relatori, anche il capo negoziatore per l'Unione Europea, Michel Barnier, che ha detto la sua sulla Brexit. È uno dei più importanti eventi legati alla tecnologia al mondo, ma anche qui, tenendosi in Europa, c'è uno spettro che aleggia, quello di Brexit. Il delegato e un mediatore per l'Unione Europea su Brexit, Michel Barnier, è intervenuto al Web Summit di Lisbona per bacchettare i britannici. Nessuno, neanche Farage, è riuscito a spiegarmi i benefici di Brexit, ha detto e ha aggiunto. L'UE richiederà forti garanzie per pari condizioni su tutta la linea. Ci sarà una maggiore concorrenza economica tra l'Unione Europea e il Regno Unito, e questo è normale, ma l'Unione non tollererà un vantaggio competitivo sleale. A Lisbona Web Summit partecipano i giganti tecnologici come Google, Facebook, Huawei e 2.150 start-up provenienti da 163 paesi sparsi nei cinque continenti. Sono molto curioso, circa alcuni interessanti, almeno per me, dibattiti Brexit negli Stati Uniti nel 2020. Sono curioso di vedere se c'è spazio per tutti. Stiamo parlando con differenti start-up europei, cerchiamo partner, perché anche se alleggia lo spettro di Brexit gli affari continuano, anche se per quanto riguarda la tecnologia è un nome noto, proprio lui che ha cambiato la storia a mettere in guardia, Edward Snowdin, che in collegamento ha detto attenzione quando si manipolano i dati, ricordiamoci che sono di qualcuno. Presentata oggi la bozza del bilancio pluriennale dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027. Dall'Italia 2 miliardi e mezzo di euro in più. I dettagli nel servizio. Finanziare l'agricoltura, la politica di coesione, i fondi regionali, il programma Horizon, l'Erasmus e i programmi ambientali. Mantenere gli stessi standard di prima con un membro pagante in meno, la Gran Bretagna. È l'obiettivo del bilancio dell'Unione 2021-2027, di cui questo martedì è stata presentata una bozza, una proposta. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2021, c'è tempo dunque ancora per discuterne. Con quali cifre i singoli stati dovranno contribuire è frutto di un complesso incrocio di dati, inflazione, reddito nazionale lordo, la crescita di ognuno. Sarà la Germania il primo contributore in termini assoluti, seguita da Francia, Italia, Spagna. In termini relativi il primo contributore diventa il piccolo Lussemburgo, conferendo l'1,08% del prodotto nazionale lordo. Per l'Italia i saldi restano quasi invariati. Conferirà in media 15,27 miliardi di euro l'anno, a fronte dei 14,91 del bilancio in corso. Torneranno indietro benefici al paese per 81,63 miliardi di euro annui, derivanti dall'appartenenza al mercato unico. Almeno tre donne e sei bambini appartenenti alla comunità mormone sono stati assassinati in un'imboscata nel nord del Messico, per la precisione a Rancio della Mora, zona vicina al confine statunitense conosciuta per essere sotto il controllo dei narcos. Una strage tra le più efferate, nella quale hanno perso la vita tre donne e sei bambini, uccisi a colpi d'arma da fuoco in un'imboscata tesa dai narcos, a un gruppo di mormoni americani in Messico. Un altro minore è scomparso. Alcune delle vittime, compresi i bambini più piccoli, sono morti, bruciati vivi nelle auto. Non si tratta di finire in mezzo a una sparatoria. Nel posto sbagliato, al momento sbagliato, dice un parente delle vittime, questo è un nuovo livello di violenza del cartello. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il commando armato ha attaccato un convoglio partito da Bavispe, diretto a Mora, nello stato di Chihuahua. In viaggio c'era la famiglia Lebaron. Ancora ad accertare la dinamica dell'agguato, se i killer abbiano scambiato i civili per dei rivali, o si sia trattato di un attacco deliberato. L'agguato a donne e bambini, assassinati a sangue freddo, fa sorgere più di un dubbio sull'ipotesi di un errore. E tempo per il Messico, con l'aiuto degli Stati Uniti, di ingaggiare a una guerra contro i cartelli della droga, twitta Donald Trump, che aggiunge aspettiamo solo una telefonata dal vostro nuovo grande presidente. Lavorare meno fa meglio, non solo al dipendente, ma anche all'azienda. E' quanto emerso da un testo condotto dal colosso dell'informatica Microsoft a Tokyo. Lavorare di meno, ma meglio, un esperimento condotto da Microsoft in Giappone, ha dimostrato che si può fare. Nel mese di agosto, i 2300 dipendenti dell'azienda americana nel quartier generale di Tokyo hanno lavorato solo 4 giorni alla settimana. Il risultato è stato un aumento della produzione del 40%, accompagnato da un risparmio del 23% sul consumo di energia elettrica e di quasi il 59% su quello della carta. Più del 90% dei dipendenti si è detto soddisfatto dell'esperimento, il cui obiettivo, stando al gigante dell'informatica, era di promuovere uno stile di vita più sano e il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata. Nel corso dell'inverno, Microsoft condurrà, sempre in Giappone, un secondo esperimento, che però non includerà la settimana lavorativa più corta. Già in passato, esperimenti condotti in altri paesi avevano mostrato un incremento significativo della produzione in presenza di orari di lavoro più flessibili. Il prossimo 22 dicembre, Juventus e Lazio scenderanno in campo al King Saud University Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita, per giocarsi la Supercoppa italiana. La notizia però è che per la prima volta nell'impianto non ci saranno limitazioni di genere. Il servizio. La Supercoppa italiana si giocherà per il secondo anno consecutivo in Arabia Saudita, questa volta senza alcuna limitazione per le donne che vorranno andare allo stadio. Un passo avanti sul fronte dei diritti, dopo le polemiche di un anno fa, quando in occasione della sfida tra Juventus e Milan a Jedda, il pubblico femminile era stato ammesso solo nei settori dello stadio dedicati alle famiglie. Per la partita di quest'anno tra Juventus e Lazio, in programma a Riyadh il 22 dicembre, la Lega Calcio ha chiesto e ottenuto che le donne possano entrare in tutti i settori. In Arabia Saudita, il pubblico femminile è ammesso negli stadi da poco meno di un anno e mezzo. Se poteste vivere il giorno più bello della vostra vita, quale scegliereste? Da questa domanda parte il nuovo film di Nicolas Bedos, La Belle Epoque, una commedia romantica con protagonista l'attore francese Daniel Oteuil, che abbiamo incontrato. Tià, si chiama La Belle Epoque, il nuovo film di Nicolas Bedos, pellicola che segna il ritorno nelle sale del quarantenne regista francese da due anni dall'opera di debutto Un amore sopra le righe. Presentato fuori concorso all'ultimo festival di Cannes, il film racconta la storia di Victor e Marianne, coppia in crisi dopo oltre 40 anni di matrimonio. Quando un'agenzia di viaggi nel tempo gli offre la possibilità di rivivere una giornata della sua vita, Victor non ha dubbi, e sceglie di tornare nella Lione dei primi anni 70, teatro del suo primo incontro con la futura moglie. A vestire i panni del protagonista è Daniel Oteuil, nel cast anche Fanny Ardane e Guillaume Canet. E' bello che le nuove generazioni vogliano ancora lavorare con me. E' bello avere la possibilità di essere in questo film, di partecipare all'affermazione di un talento come Nicolas Bedos, al suo emergere come autore e regista. Ispirato alle grandi commedie italiane degli anni 60 e 70, il film riflette l'ossessione del regista per lo scorrere del tempo. L'usura dei sentimenti e il rimpianto per le occasioni perdute erano temi già presenti nell'opera d'esordio. La commedia è il genere più difficile da realizzare, ma anche il mio genere ideale è quello che mi piaceva quando ero giovane. Ho visto le grandi commedie italiane, quelle in cui la gente rideva e un secondo dopo piangeva perché c'era emozione, e il film di Nicolas Bedos si scrive in quel filone. La Belle Epoque sarà nelle sale italiane da giovedì. Euronews Sera termina qui e torna domani. Grazie per averci seguito. Buona serata. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.